winter triathlon madonna di campiglio e winter duathlon io sono giovanni bertagnin e questo è il mio podcast allora il winter triathlon che specialità è una specialità dove si respira l'area di uno sport primordio nel senso che è una disciplina che sta nascendo una disciplina mio giudizio interessante come poteva essere il triathlon tanti anni fa che veniva visto così di sott'occhio dai ciclisti dai podisti dai nuotatori e winter triathlon è bello perché cosa c'è c'è lo sci di fondo quindi si va sui sci di fondo una disciplina strettamente fisi della federazione sci e quindi andiamo tra virgolette a in punta di piedi in questa disciplina dove ci sono maestri di sci istruttori di sci e quindi entriamo anche noi bussiamo diciamo ci siamo anche noi come la multidisciplina ci siamo anche noi tecnici di winter triathlon ci siamo anche noi che possiamo tra virgolette impartire qualche lezione di winter triathlon agli atleti cos'è cos'è la gara quindi quando entri in campo gara è bello perché quando vai a fare queste gare trovi amici e siccome ce ne sono pochi di gare è come il triathlon di tanti anni fa cioè tutti ci si trova quella gara ogni gara un campione italiano sono tutti gli atleti pian piano e li conosci tutti e un meeting point un punto di incontro bellissimo secondo me mio a mio a mio avviso perché si respira una sensazione di sport di sport sano non di quello sport dove certo ci sarà sempre la vittoria la sconfitta di qualcuno ma si respira comunque una voglia di competizione sana pulita di mettersi alla prova con se stessi con gli atleti con gli altri atleti con le difficoltà tecniche della corsa della neve le difficoltà tecniche della monta bike della neve e dello scilifondo badali campiglio location direi che è una location abbastanza centrale e nell'italia non ci vuole tanto da brescia poi invece di prendere la modena brennero che è una delle autostrade più care dell'italia assieme all'autostrada dei fiori da brescia fai tutto una strada statale quindi non hai neanche il costo dell'autostrada quindi visto che ho fatto l'università a genova bellino mettiamolo in coto so palac e quindi una location centrale nell'italia infatti c'erano un po atleti dalla val d'ossa dal friuli dio dal cuneese dal dai lì di ferraresi i grandi amici i grandi bottoni dei lì di ferraresi ok per winter triad certo ci va un abbigliamento un po speciale perché poi a seconda delle temperature cambia l'abbigliamento se sei un grado sopra lo zero se sei qualche grado sopra lo zero se sei vicino lo zero se sei tanti gradi sotto lo zero c'è in questo range di temperatura di 20 gradi diciamo ti devi portare un po di vestiti dietro perché perché cambia la situazione cambia di temperature e cambia anche la neve può essere neve farinosa appena caduta neve ghiacciata e quindi da gestire un po queste queste situazioni la neve era eccezionale c'è stata un abbondante nevicata poi ci deve essere stato un rialzo termico il gatto le nevi è passato e si è formato un diciamo una crosta superficiale compatta che ha permesso lo svolgimento ottimale della gara in tutte le tre discipline andiamo a vedere la gara e i percorsi li guardi sulla sulla google map o sulla scheda tecnica della gara ti sembra tutto piatto dici ma sto percorso qua tutto un piattone tutto un piattone qua nel boschi di abete bianco abete rosso sarà una passeggiata e qui casca l'asino perché io sono arrivato prima stamattina mi sono fatto un giretto sui sci da fondo mi sono girato tutti i percorsi sia quello a piedi che quello in bici quello sui sci e col cavolo tanta salita e tanta discesa quindi un percorso veramente duro 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 quindi toglietemi le idee che possa essere una passeggiata qui a madonna di campiglia e poi mi cominciava a venire fame perché prima della gara mi sono messo una barretta e ho detto rischiamo perché ero dopo la mattina presto il viaggio viaggiato un mezzo di notte dormito praticamente niente ma tanto quando stai bene è uguale pronti via siamo a 1800 diciamo non ho voluto forzare fare dei picchi di affaticamento di fiato cardiaci perché quando sei così in quota se fai un picco di un fuorigiri poi ti sale il cuore ti sale il cuore quindi oramai lo so questo e quindi sono rimasto sempre a un livello diciamo sotto soglia di una condotta di gara comoda faccio i ricorsi sali e scendi bene ho recuperato ho entrato in zona cambio non ho fatto il cambio scarpe sono stato con le scarpe normali forse potevo fare il cambio scarpe tanto sono velocissimo però c'erano questi curvoni ampi dove dovevi mettere giù il piede c'era da guidare tanto e quindi ho deciso di non fare il cambio scarpe però oggettivamente ci poteva stare per fare un 30 secondi meno aver cambiato le scarpe forse lì guadagnava ancora morale dopo l'operazione di corsa parto in bici entro deciso in queste curve qua nella neve e vedo che nel piano dove c'è da spingere perdo un pochino ma rientro in discesa lascio correre sulla neve la porto proprio all'ultimo e vedo che rientro su quelli davanti e dietro non mi prende nessuno neanche in salita tra i giri di bici diciamo più o meno mantengo la posizione e a fine a fine bici mi prende un grande campione che non è in forma non era in forma questa volta luca e mi recupera e so che un ciclista forte un sciatore fortissimo dico vabbè è logico mi basta siamo categorie assieme invece no la fine della frazione della gara ve la voglio raccontare perché perché va a parte che ho vinto ma non è quello il discorso per dire che ho vinto ma in volata il photo finish da terzo in negli ultimi 30 secondi sono passato da terzo alla prima posizione e questo è stata è stata una vera botta adrenalinica ecco queste qui sono sono quelle emozioni che dallo sport che ti riempie veramente veramente il cuore questa è veramente quindi tengo luca sempre lì davanti a vista vedo che i miei sci sono veloci vedo che non c'è il passo perché una volta mi dava dieci minuti quindi non c'è il passo un po fuori forma di una volta me l'aveva detto stamattina lo tengo lì vedo che un po va via poi dico ma se ti salì allora dico dov'è che lo posso attaccare al giro prima ho visto che in salita non è che andasse tanto forte io invece mi sento con un bel passo sicuro da salita nell'ultima salita lui si perdo un attimo si inciampo un attimo e lo infilo lo infilo deciso attacco vado sulla salita ma due rampe la prima rampa mi sale il cuore mollo un attimo riprendo nella seconda lampa non mi giro perché in questi casi qua sai cosa è bello fare a me piace molto non girarmi a vedere dove l'avversario pensare che ce l'ho dietro attaccato che mi sta superando pensare che lì attaccato e dare il massimo di quello che posso dare ecco io la vivo così questa emozione del sorpasso la è l'emozione che è una cosa magica è come il dribbling del calcio il sorpasso in una gara di triathlon ti carica veramente tantissimo morale vedo un altro concorrente che sta scolinando un po' incipicciato in cima al monto e lo passo lo passo e mi butto in discesa arriviamo sull'arrivo sul 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 retiro d'arrivo sento che mi rimonta mi rimonta allora io non pensavo si potesse pattinare invece si poteva pattinare su questa linea d'arrivo allora mi metto anch'io a pattinare ma sento che mi sta rimontando ma all'ultimo quando mi sta superando si inciampa si pianta la racchetta davanti lo sci e si inciampa e cade quindi vincono sta volata ed era ed era della mia categoria quindi in 30 secondi una gara una gara lunga che si è praticamente decisa come in un 800 metri quindi in volata benissimo pomeriggio poi ho fatto il winter driathlon c'era anche il winter siccome erano gare sprint si potevano fare due gare nel giorno nel giorno e quindi ho detto cavolo cioè quando sono partito mia figlia mi ha detto papà se non fai la doppietta non tornare neanche a casa cioè non ti presentare neanche a casa fai tutti questi chilometri almeno due gare le devi portare a casa la famosa doppietta e quindi winter driathlon è pensavo fosse con la bici e invece con gli sci da fondo la formula europea del winter driathlon è corsa sci di fondo corsa sci di fondo corsa sci di fondo per tre volte è ripetuto per tre volte e quindi devi anche fare bene i cambi e partire ero già stanco diciamo partenza ma molti atleti avevano quasi tutti gli atleti avevano fatto anche il winter triathlon prima quindi eravamo diciamo tutti già distrutti allora vado dico vabbè qui proverò a fare la gara il mio progetto gara fare la gara un po in progressione cerca di finire magari forte l'ultimo giro siccome sto sciando veramente forte beh mi sento io che sto sciando forte e ho detto tirerò un pochino più sui sci così in partenza di corsa parto tranquillo poi vedo che invece le sci vado via vado via tutti i miei compagni amici di compagni di gara poi nella gara finale negli ultimi due giri mi trovo con un concorrente che ci superiamo a vicino lui mi passa a piedi e io lo passo sui sci di fondo però rimaniamo sempre agganciati per per tre giri e poi l'ultimo giro apro gas e lo passo avrei secondo me dovuto aspettarlo e fare una volata sarebbe stato molto più divertente un arrivo così tanto non avrei vinto niente e così poi dovevo rallentare portarlo in volata e divertirci così va bene questa è il mio podcast questa è la mia avventura queste sono le mie emozioni ciao a tutti buona serata buonanotte buongiorno buon lavoro grazie a tutti